Cari amici di Nocchialino.it Faccio questo video come prova per tre cose Stabilizzazione ottica Video di sera, come vedete, anzi ormai è abbastanza buio, sono quasi le 10 di sera E anche come qualità di registrazione audio, dato che metterò il volume abbastanza alto in macchina In modo da sentire come registra Partiamo Facciamo partire la musica E buona visione Scusate, mettiamo da capo, alziamo E buona visione E cerco di mentire a me stesso Per momenti dove non mi ha concessi E penso di trovare pace in una stanza senza luce La forza di capitale sale D'alto mi fa precipitare Prego aiutami Per momenti dove non mi ha concessi E così nel deserco Che c'è mai E un ruolo di deserto Per il tuo lapidazio 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 E così nel deserco E così nel deserco E così nel deserco E così nel deserco Che te ne vai! Cerco di riassaporare La felicità che ormai scompare Prego aiutami Il nero è il colore Che c'è mai Che c'è mai Che c'è mai Correggio! Che il nero è il colore Non è il colore Non è il colore Non posso stare a pezzo E mi sono freddo Un occhi mi dissente Qualcato dietro Non c'è un occhi in questo Il desiderio è freddo Che il nero è il colore Non è il colore Non posso stare a pezzo E' dove sono posto? Ma te mi dici da qualcosa che non do la doccia E' un lato in festo, desidero spesso Provo a camminare ma proprio non riesco Non so cosa fare, continuare a stare fermo Adesso penso a te, calore dentro abbraccio Vengo da tema, come faccio? Sono andato di serpente, scaccio la paura Morto non fa niente, vedo testo per la luna Verso il deserto, vedo treva dell'estasi Non mi fermo, adesso trevo E' un lato così Cammino nel deserto, un lato non riesco Non posso stare fermo, credo non sono posto Un lato inizia, non farà un lato Faccio un lato in questo deserto, freddo Cammino nel deserto, un lato non riesco Non posso stare fermo, credo che sono posto Un lato inizia, sento sbagliato Sono andato in questo deserto, desidero spedendo Bene amici di Nocchialino.it Un attimo solo che mi parcheggio un attimo Perché vi voglio far vedere su cosa ho montato il telefono Affinché potessi guidare liberamente Ovviamente l'ho montato su un supporto per auto Un attimino solo Che accendiamo la luce Che non so se si riesce a vedere Controluce E' abbastanza mobile Quindi è abbastanza molleggiato Ogni buca che prendevo sicuramente sarà stato Cioè non lo so Penso che sarebbe impossibile Pensare che non sia venuto mosso Comunque spero che il video vi sia piaciuto E alla prossima Continuate a seguirci E iscrivetevi al canale di Youtube Grazie a tutti